Dopo i casi di violenza commessi da detenuti nei confronti di agenti di polizia penitenziaria, l'Onorevole del Partito Democratico, il padovano Alessandro Zan, è entrato nel carcere Due Palazzi per capire com'è la situazione. Abbiamo ascoltato le esigenze, le criticità espresse dal direttore, dai sindacati di polizia, dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno appunto chiesto con urgenza un aumento dell'organico, perché siamo sotto organico in questo carcere e soprattutto che non ci sia l'inserimento di detenuti con pene brevi o detenuti psichiatrici che devono essere trattati con un trattamento a parte. Nel carcere di Padova al momento ci sono circa 650 detenuti a fronte di una capienza di 400. È necessario intervenire, sottolinea Zan, perché il penitenziario resti l'eccellenza che si è dimostrato negli anni. Questo di Padova è un fiore all'occhiello ma dobbiamo lavorare tutti perché non venga rovinato questo carcere e purtroppo lo stanno rovinando immettendo i detenuti che non c'entrano nulla con il trattamento ad alta intensità che qui è previsto, che ripeto prevede che i detenuti lavorino nelle cooperative, studino e dunque vengono reintegrati nella società. Chi ha pene brevi non ha interesse ad essere formato per continuare il lavoro, ad esempio, delle cooperative che hanno bisogno invece di detenuti che lavorino stabilmente in questo carcere. Allora chi ha pene brevi o detenuti psichiatrici devono avere un trattamento specifico.